La ricetta A-S-E-R Il fatto che ho viste di questa torta sarà la zucca Dai, ancora finiscilo Tutto, tutto Aprello un pochino Buone, vero? Eh si, un altro pezzettino Ancora uno, dai Ancora qua Così Aprello un po' di cuccia Così La ricetta a te era buonissima Bravo Ciao Ciao Come stai? Ciao 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 Bentornato O bentornata Nel mio canale Si, oggi volevo fare Per riporare con te Una bellissima torta Una ricetta A-S-E-R 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 Si Ti piace la potea? E' una ricetta A-S-E-R 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 Sarà L'autocomista di questa torta Sarà la zucca Spero vi piacerà Şimdi Si Si Ok Poi e Il è lu D e poi la melicolica io sicuramente farò una torta piccolina poi se lo vedete sotto, qua sotto vi lascerò una ricetta completa di questa torta preparerò insieme questa torta la mangiamo insieme, la assaggiamo la ricotta è il mio zucchero bellissimo peccato di italiano è arrivato il documento servirà a la metto di mais la metto di mais la metto di mais va bene anche la metto di riso farina di riso anche feccola di feccola di questa torta è ok poi la mia zucchero poi ci ho ancora sicuramente un po' di zucchero a vela zucchero a vela vanigliato mi raccomando deve essere vanigliato e un po' di e un po' di e un po' di vado a tagliare la zucca e metterò in forno a 250 gradi per 20 minuti vediamo dopo mamma mia allora la zucca dando la consistenza della zucca le abbiamo aggiungere adesso l'uova ecco che è buonissimo la mettiamo qua idem ci ciao non ho preso cucchiaino adesso un cucchiaino zucchiere perché la zucca è già di sé molto dolore ancora un mezzo di zucchiere così avremo anche la zucca e aggiungo così con questa consistenza con questa quantità di zucchiere giusto per dare un po' di profumo alla vaniglia perché lo zucchero è alla vaniglia andiamo adesso di nuovo a no mi manca ancora la ezzena ricordiamo quelle che stiamo mettendo nella zucca dovremo mettere anche nella ricotta praticamente dovremo preparare due ingredienti separati la zucca da una parte e la ricotta dall'altra parte però quelle che contiene la zucca e quelle che contiene la ricotta sono gli stessi ingredienti con gli stessi quantitativi quindi ricordate quelle che stiamo mettendo dentro della zucca per proseguire poi con la ricotta e dobbiamo mantenere una consistenza molto simile con la consistenza simile di quella che era aperta con la zucca per fare la stessa che 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 sono l'ai magari le che Per il olio, per il bárbaro Alla vostra ora è scoperta che abbiamo un produttore davvero molto strigliato, soprattutto con un microfono molto attaccato per ridurre questo fondo distratto che c'è un design che vale a fare Ok, andrò adesso a usare il blender quindi tolgo fettiforiume spettiamo il micro buonissima guardate che consistenza secondo me possiamo aggiungere ancora un po' di ancora un po' di la metodima perché la vedo un pochino liquidina se avete visto pezzettine scure perché la mia azucca stava colta in forno e quindi era abbastanza affronzata a me piace eccoci qua il prossimo step adesso facciamo la stessa cosa però con la ricotta qua ho 1250 grammi perché ho una una formina molto piccola quindi sicuramente farò oggi video così di ingredienti per due torte piccole ma proprio lo sapete anche di più qua sotto in questo video vi lascerò la ricetta originale è per una torta più per la dimensione più grande magari per la dimensione più grande per la dimensione più grande per la dimensione più grande ecc aggiungo un cucchiaio e mezza di zucchero io non amo molto dolce forse anche qui facciamo due perché la ricotta è più salata poi aggiungiamo un uovo una abbiamo già passato nella nostra zucca poi aggiungiamo un cucchiaio e mezzo di zucchero a velo abbiamo messo una ma guarda guardate poi la ricotta è stile adesso mettiamo solo uno di amido di mais ok un seremo di cucchiain ricordiamo che la consistenza le consistenze devono essere uguale si è uguale per la zucca anche quella della ricotta si è diventato un po' dura come la consistenza bisogna usare un cucchiain oppure un cucchiain o due cucchiain di latte quella che volete quella che avete che mi piace già perfetto la zucca la zucca è un pochino più liquida rispetto si è buona ma la mezzo è buona la mancolà è già così allora io qua aggiungo adesso qualche occhiale di kifir Se avete la panna liquida è un po' meglio Anche questo l'avevo preso alla vaniglia Buonissima mamma mia Tutte le cose molto buone Uno e due vediamo com'è Bene adesso Che edilizia Andiamo a amalgamare tutto per ottenere una consistenza molto simile quella della nostra zucca Buonissima Allora spengo il microfono perché devo di nuovo usare al quello che c'è qua del microfono e secondo me è venuto il microfono la consistenza molto simile quella della zucca ma sono molto brava a fare i video cucinando a cucinare a fare tutte e due cose contemporaneamente più difficili quindi quindi un tanto di quale appello a quale persone che vanno dalle video recette per il microfono 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 e quindi e quindi qui vi faccio vedere che aspetto mi raccomando più o meno vedete la consistenza è così adesso adesso vi spiego cosa bisogna fare dopo la mia mini furtina le fanno sopra davanti allora come dicevo prima la mia torta sarà molto piccola sicuramente quando credo che le ho preparate magari verrà anche tutto ci vorrà più tempo perché non ho due da mettere il forno subito ma magari adesso faccio una torta e poi faccio un'altra perché sicuramente ecco la quantità la quantità degli ingredienti che ho sufficiente adesso ho messo già all'interno la carta al forno e adesso spalmerò un po' di burro nei bordi di questo loro sono acqua ecco il calore delle mani praticamente si è sciolto tutto allora adesso cosa dobbiamo fare dobbiamo fare in modo che la torta viene fatissima bisogna prendere un cucchiaio e con un cucchiaio mettere le porzioni zucca ricotta zucca ricotta zucca ricotta e la torta è la torta e la torta è molto più bella e allora le mie tortine le farò vedere devo fare un po' acqua allora le ho già adesso con un cucchiaio di zucca per la ricotta è vero che bisogna consumare così la ricotta e la zucca cerchiamo di mettere sempre tutto in centro però più centrale possibile la ricotta perfetto la zucca perfetto la zucca la zucca perfetto e di nuovo la ricotta e di nuovo la ricotta andiamo a muoverla un pochino eccoci qua vado a prendere un stuzzicadente per fare un disegnino e adesso faccio questo questo disegno preso un stuzzicadente così verso il centro così la torta non ce l'ho solo io e quindi assaggio solo io eccola qua molto carina vado al centro di forno e cuoce la mia tortina dopo vi faccio vedere cosa è venuta ok ancora ho messo già la mia torta in forno come sentite che è il forno insomma ci vorranno circa una trentina quarantina di minuti la mia torta è piccolina quindi penso 30 minuti ci vogliono tutti mi farò vedere dopo una volta una torta sì e la avrete dato un pochino la mangerò la mandiamo e vi dirò come è venuta allora allora adesso faccio un po' di ordine perché è un casino tra la ricotta forse faccio anche la se viene bene la prima tortina magari faccio anche un'altra dopo rimanete qua con me ma dopo ed eccomi qua per te sono riuscita a fare due piccole torrentine allora una è completamente bruciata guardate è ancora calda ma spero che sia molto buona dentro adesso assaggiamo adesso questa qua è ancora calda vi faccio vedere quella che è venuta la prima eccola qua bellissima l'ho già tagliata perché volevo assaggiare con una pezzettina guardate qua astratti arancione bianco e poi bellissima assaggio un pezzettino qua guardate che bello piccolino mamma mia che buono mi piace della mia lì l'ho letta mamma mia questa torta davvero spettacolare perché non contiene la la farina praticamente sono tutte le tutti ingredienti che uno può mangiare con un pasto scopletto perché la la ricotta è ricotta delle proteine la zucca sono le fibre ed è in sé la zucca molto dolce no? guardate assaggio allora proviamo a tagliare questa torta bruciagliata bene pensavo peggio è venuto benissimo molto benissimo anche qua ok vi faccio vedere il disegno che è venuto qua guardate bene bello vero? la mia tortina è molto super soffice che spettacolo sembra una quasi sembra una cheesecake no? guardate quanti strati è buonissima quindi seguitemi con le altre ricette se vi è piaciuto il mio video lasciate un like e io adesso mangio un'altra fetta se vi volete se volete farmi una compagnia il suo problema mangio sicuramente quella che è più fredda questo è diebile allora eccola qua questo è spettacolo guardate eccola quasi quasi prendo un altro vetto è spettacolare sono propria per un'altra fettina piccolina lo taglio qua per farvi sentire quanto è soffice 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 e qua abbiamo terminato la nostra videorecetta di questa bellissima torta alla ricotta e la zucca mangiatela che è veramente spettacolare alla prossima video mettetevi un bel like lasciate un campanello finito così non perdete il libro dei miei video spero che vi sia piaciuto spero che vi sia piaciuto il mio video un po' ironico però è molto sono divertite ma soprattutto è buonissimo ciao ah scusi mi non ce l'ho fatto esaggare certo buonissimo vero ancora un pozzettino dai ancora uno piccolo così dai ancora finiscilo tutto tutto brava guarda è rimasto proprio un pozzettino piccolo guarda questo qua un pozzettino piccolo tutto per te ha bello pochino un pozzettino proprio piccolo dai questo qua buono vero eh si un altro pozzettino dai ancora uno dai ancora un pozzettino abbia una boccia così miam miam la visita ti ho detto che era buonissima bravo quindi vi saluto bene ragazzi bene ragazzi ciao alla prossima video spero che vi è piaciuto quel mio video molto ironico ciao 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 ciao